al senato e ai comizi curiati si affiancarono in età repubblicana altre tre assemblee mediante le quali il popolo partecipava alla vita politica della res pubblica i comizi centuriati i comizi tributi e i conciglia plebis cioè le assemblee della plebe partiamo dall'assemblea popolare più importante che è quella dei comizi centuriati essa è l'assemblea del popolo in armi tant'è che il loro luogo di riunione era il campo marzio una vasta spianata destinata alle esercitazioni militari i comizi centuriati erano formati da 193 centurie che risultavano dalla suddivisione della popolazione in base al censo la centuria corrispondeva a un contingente di soldati da fornire all'esercito ogni centuria era portatrice di un voto la prima classe era composta da 98 centurie e comprendeva i grandi proprietari terrieri per la maggior parte patrizi la seconda ne contava 90 e includeva tutti coloro che potevano permettersi un cavallo quindi in media i piccoli proprietari terrieri tutte le altre infine includevano gli strati medio bassi e i più poveri coloro cioè che potevano fornire cinque centurie di ausiliari cioè di truppe di supporto in genere composte da soldati a piedi i meccanismi di voto privilegiavano i più ricchi cioè la prima classe per due ragioni innanzitutto essi votavano per primi in secondo luogo pur essendo inferiori numericamente essi avevano la maggioranza delle centurie cioè di unità di voto a disposizione quali erano le funzioni dei comizi centuriati i comizi centuriati eleggevano i magistrati più importanti cioè i consoli i pretori e i censori prendevano decisioni di vitale importanza come la dichiarazione di guerra e la conclusione di i trattati di pace ma si occupavano anche di legislazione ordinaria comizi infatti erano anche il tribunale d'appello per le condanne alla pena capitale